Un cortiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna 4 km di coda per incidente tra Paldichiane e Arezzo con rallentamenti perguriosi sulla carreggiata opposta e sempre in direzione Bologna 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma code per traffico intenso tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 è chiusa l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze per lavori. Sulla statale 67 Tosco Romagnola fino alle 18 di oggi è chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio della Rufina e l'incrocio per Pontassieve. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!